Diamo una lezione ai tirati! Prendiamo il trasmettitore 1! Tiratiamo il trasmettitore 1! Pronto a combattere! Rapidi e puliti! Lancia una granata! Esploratori pro, catecollo! Abbiamo piratato il trasmettitore 1! Questa è la vittoria! Guardate! Piratano il trasmettitore 1! Il nemico ha rubato il trasmettitore 1! Riprendetelo! Prendiamo il trasmettitore 1! Prendiamo il trasmettitore 1! Il nemico sta rubando il trasmettitore 1! Il nemico sta rubando il trasmettitore 1! Granata! Sto ricaricando! Sto ricaricando! Prendiamo il trasmettitore 1 Ascoltate Che siete ammorti Li hanno ammazzato ancora e ancora Prendiamo il trasmettitore 1 Abbiamo piratato il trasmettitore 1 Pirata il trasmettitore 1 Il trasmettitore 1 trasmette a piena potenza Proteggetelo Il trasmettitore 2 è pronto, prendetelo Il nemico sta rubando il trasmettitore 1 Barili esplosivi in attesa di ordini Pirata il trasmettitore 1 Prendiamo il trasmettitore 2 Davvero arrivare una bomba nemica Sono al trasmettitore 2 Il nemico sta rubando il trasmettitore 1 I barili esplosivi alleati sono in arrivo Per ora il trasmettitore 1 è andato Trovatene un altro Sorpresa! Il nemico è al trasmettitore 2 Lancia una granata Sono al trasmettitore 2 Gradiamo il trasmettitore 2 Non siate rapidi! Il nemico è al trasmettitore 2 Sono al trasmettitore 2 Il nemico è al trasmettitore 2 Granata in volo Prendiamo il trasmettitore 2 Controlliamo il trasmettitore 2 Sono al trasmettitore 2 Il nemico è al trasmettitore 2 Sono al trasmettitore 2 Sono al trasmettitore 2 Ora ricarico! Continuate a lottare Teniamo la posizione! Ricarico! Ricarico! Il vostro cuore! Accettatemi come nostra salvatore! Inchiadatemi a mancazzo di croce! Per ritornere! No, un nemico! Ora ricarico! Ascoltate! Lo vedete? Siamo ammazzato! Ancora e ancora! Sto ricaricando! Il nemico è al trasmettitore 2 Quasi finite! Il trasmettitore 2 è caldo Dovete difenderlo Sono quasi a secco! Il trasmettitore 3 è attivo Prendetelo! Cercano di prendere il trasmettitore 3! Ho poche munizioni! Prendiamo il controllo del trasmettitore 3! Attacchiamo il trasmettitore 3! Il trasmettitore 2 deve raffreddarsi! Bel lavoro! Prendiamo il controllo del trasmettitore 3! Abbiamo preso il controllo del trasmettitore 3! Raffreddarsi come il fulmine! Forza! Merda! Colpi finiti! Aspettiamo il segnale per i barili esplosivi! Poche munizioni! Non hai niente! Verda! Mi serve una mano! Sto finendo le munizioni! Forza! Ricarico! Per la libertà! 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 Poche munizioni! Possiamo farcela! Il trasmettitore 3 si è scaldato! Continuate! Quasi a secco! Il trasmettitore 1 è pronto! Muoviamoci! Il nemico sta prendendo il trasmettitore 3! Pirata in vista! Per la libertà! Per la libertà! Il trasmettitore! Per la libertà! Per la libertà! Lo ho un nemico! Perdo sangue! Va tutto bene! Poca munizioni! Giratiamo il trasmettitore 1! Rapidi come il fulmine! Ci siamo quasi! Non molliamo ora! Il 3 è andato! Bel lavoro! Prendiamo il trasmettitore 1! Il trasmettitore 1 è nostro! Guarda qui! Della birra pulita! Credo! Sì! Quelle sono pulite al 100%! Ehi! Slegalo dai! Forza! Non fare il timido! Entra e slegalo! Ehi! Ti sei fatto battere da... Una puttana thailandese in tacchi a spillo! Ma comunque è stata una bella partita! Quando nostro pa selfie va... Ehi! Che 드jon! Che! 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 Che!